musica 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 ok grazie c'è proprio parla a can parla con il can eh secondo me no certo infilandosi un coltello alla spalla perché te quando ti vuoi suicidare ti pianto un coltello alla spalla giusto un po' di giusto ma tutto bene noi siamo intelligenti lui no siamo più fuori tutti noi questo gli aveva insegnato lì nell'ultima parte quindi non sarò vagante ehi quanto si bello facciamo la selfie insieme shhh non lo facciamo da vedere guarda un monte tirammozzico qualcuno l'abbia forzato a farlo otto vamo punzecchialo come la merda come fa cosa ok prima ci diamo il vagante dopo gli incolliamo il coltello sennò vai un'altra botta ralla per sicurezza no sarebbe troppo da furbi no no ah infatti danni secche ah non te lo devo dire io bussani ancora ma ma di che cavolo sei fatto di di ma cane schianta una persona normale sarebbe già spaccato il cranio quando bastonato così oh hai fame? vuoi favorire? ti guardo come ti vuoi che cazzo stai dicendo? ehm osserviamo il vagante osserviamo la allora no no poveraccio stava bene lì invece prendiamo prima il coltello prendi il danato prendi il cazzo figlio coltello svizzero poi aspetta no no aspetta voglio vedere che c'è in tasca voglio razziarlo no eh te la tua furia accidenta che tanculata monstra come sapere oh te lo devo azionare dai vai vai muo a parte di sforzarti ti cai addosso eh fagioli ovvio in tutti i finti stanno fagioli eh eh cane eh cane eh cane eh 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 mo l'ha voluto un amico mo te lo devi mantenere ah eh 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 eeh xix Music eh eh che cazzo ahah eeeh sennò lo tenevi lì dove era Vado a mangiare il cane Pella madonna Vabbè, te ti sei più chiapato Bastardo Eh, che vuol dire? Sì, lo prendi Bastardo, abbiamo il cane Ma, figlio di Che se è proprio Cioè Ma andiamo a ca No, l'ha coltellato Bastardo, è un cane Accidente, è che ti han curato E te Clement anche Fai affidamento Eh, sono cazzi tua ora Per quanto mi interessa, sono cazzi tua Eh Vado, solo per piazzata Per non farlo soffrire Se no A me no Guarda Do it Eh, ho avuto Fa lo stronzo E mo Te l'avevi da coglione Eh, ho Vai Vai E' un altro cadavere lasciato alle spalle Che bello Che è il prossimo a togliersi di hulo Magari incontriamo Cristo sotto forma di zombie È il massimo che io mi posso aspettare ormai E' il massimo che io posso aspettare ormai Sta inviando a farsi buio la floresta sempre più fitta insomma che si dice dalle tue parti? non è il momento da far si prendere da panico la passate tutta vai, ma mi sa che mi attacco la rabbia si, è pure circondato tanto, è vero facci così vai su fai altro slalom come all'inizio non vedo niente corri, non mi fa correre Climentine, devi correre Climentine, come cazzo corri? devi correre c'hai, c'hai, c'hai eh, io te lo ho detto la ti dà la ti dai grazie che non che tu sia, la devi capitare oh, eh, ma non sono mica quelli che non sono quelli che li ho rotto il cazzo prima sono stufo la ragazzina deve andare grazie stai venendo tutto sfocato se non era di more in braccio vai on the path guarda che cazzo voleva dire traduttore alla mano vabbè dopo ok, le ultime parole famose siamo fottuti quando fanno così vuol dire che siamo fottuti no, ma ho morto solamente un cane e stavo per essere pappato penso di sì, va sicuro non gli dico lasciare mistero dopo avermi salvato il culo e sto per fare la vita e la morte mi approfitto, diciamo stavo pensando andando a fare un giro siamo stati attaccati queste persone tutte a cosa stanno uscendo sono uscendo una specie di donna hanno stato un uesel questa si chiama non sono sprovivenza lì se non è Luke oh, Luke 2316 sono Clementine ho bisogno di un pennello che c'è? non sono stato morto non sono stato morto mamma, f*** f***, f***, f*** cosa faremo qui? no, è un cane sì, ma io sì ma noi abbiamo un cane guardate no, no, guardate guardate, guardate questo no, non è il mio collo perché? perché non è il mio collo 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 non è il mio collo Ma come fai a dire di no a due occhi così, dai? È un cane, hai visto? Sì, fidati, garantisco io È stato un cane, fidati Morto Eh, l'ho ucciso, eh, cazzo Eh, sì C'è, c'è, eh Mi avrebbe attaccato, purtroppo Eh, si chiama Spravvivenza, hai dieci Sì Sono tuo padre Sì 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 Ricordo così Ricordo che è un cane, per me questo è abbastanza Oh, che altro va dire? C'è un buon ucciso, Detector Luke È un buon ucciso, Detector Luke Ok 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 Ecco Ok 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 Sì ma magari ci ha aiutato Questa qui vi schianta dietro Un momento all'altro Ecco Eccola giù E vai Bussa Vai c'ho riattaccato la roba di sicuro C'è cazzi che tendono No what? E ora? Che cazzo? Rebecca? Ah niente Mi state puntando a fucile in faccia Mi serve un dottore Tua zappa Spero che Maria Makane vi appino Sì sta bene Mi stanno solamente per sparare in faccia E poi andrò Non voglio essere infettata Quella è punza Abbiamo un dottore L'avevo qui Ti darò un'occhiavra Ok sono solo un'occhiavra No we're all scared, Luke Don't act like what you tell to be irrational Don't act like what you tell to be irrational Cause we don't watch this bullshit story No way she survived out here on her own Oh why are we even argument about this? Cazzo? Let me take a look Vim perché mi sei brutto Gorditi prima te, purtroppo. Grazie, non lo capito. Ah, che bel uno. Di sicuro non godi se un cane ti morde, eh? Cioè, vuoi provare, tipo? Guarda, sì, è un morso di cane. Che scoperta. Questo non è come fare cose, ma. Quando viene morto viene abbottuto a fine della storia. Che ca**o? No, 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 tu sei scena. Non so che potrei fare un bucino in giro, ma... Eh, che vuol dire? Credo a chi ti rivolgerai... A lui, a lui, il mio... Non so che potrebbe essere sicuro per la vita. E allora cosa? Come potremmo sapere che funzionerà? Tu sei un'altra parte qui, certo? Vuoi essere sicuro di ricordare qualcosa di questo? E' un'altra parte, perché non se ne fanno. Eh, è l'unico che ho conosciuto meglio del Groove. Cosa vuoi dire, resta dentro. E' un'altra ragazzina! Lasciate, andrà soltanto a farci. Aiutatemi e me ne andrò. Voglio bloccare una energia e me ne andrò. Non mi? Non ti più, lo prometto. E dove andrete esattamente? Eeeh... L'unico è là fuori. Non ho avuto questi cinque passi. Guarda, posso essere un minaccio che mai. Sì, dice che sto dicendo la verità. Magari... È solo l'amorso di un cane. Eh sì che è un amorso di un cane! Te lo devo dire in un'altra lingua? Guarda gli bestegna dietro. Allora che ne pensi? Sto vi... Un amorso di un cane. Potrebbe essere questo qua. Siamo un amorso di un cane. Eh certo, magari si infetta! Sì. Nel frattempo... Possiamo richiedere la mia papà. Grazie eh! Almeno dai! Cioè se non muoio per infezione, muoio per disalunione. Cioè se non muoio per disalunione. Ma sì... Non possiamo fare nulla. Non ho scoperto i soldi per un lirperbite. Non ho scoperto i soldi per un lirperbite. Non ho scoperto i soldi. Non ho scoperto i soldi. Non ho scoperto i soldi. Ma tu sei uno stronzo. Ma almeno una pulitina... Una toccatina d'acqua. Grazie mille. Quello lì secondo me... Più o meno finirà male. Ma qui glielo leggo in faccia. Morirò più o meno... Tra poco c'è scritto in faccia. C'è copione scritta in faccia. E' stato un cane, lo vedrete. Ho anche lo scoperto un mattino. Se sia così lungo forse potreste andare a cercarlo. Guarda, 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 guarda. Ma troppo rispioso, mi dispiace. Sembra che è quello altro da dietro. Ora che ci... Ah, lo stronzone, infatti. Quella che ma qua mi sta a sparare un colpo in fronte. Ecco, guarda. Togli i dito dal grill e ti sarà meglio. Grazie, io sono il vostro animale domestico ora. Grazie, eh. Proprio... Termina qui questo video gameplay. Mi piaceggiate, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti. Nella fanpage di Facebook trovate in descrizione. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.